Buongiorno a tutti. Andiamo verso la Valpolicella. Vediamo se ci ricalcola il navigatore in automatico, sì. Però io vi ho messo a posto che devo togliere la descrizione di un po' di qualcosa, l'ho usato. Adesso ci fermiamo. Inizia 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti